E' un libro che permette alle persone di avvicinarsi a una prospettiva diversa, più vicina al cuore e più vicina alla profondità nella quale ogni cosa è connessa. Il tocco dello sciamano è un tocco che permette di manifestare la bellezza nella nostra vita, ma non possiamo farlo se non accediamo al nostro cuore. Quando siamo connessi all'amore che è presente nel nostro cuore, siamo in grado di affrontare la vita con forza, intraprendenza e ci riappassioniamo, ci reinnamoriamo di tutte le nostre relazioni, la relazione con la terra, con gli alberi, con le acque e con l'universo tutto, perché nella cosmologia sciamanica ogni cosa è connessa a un'altra e se adottiamo e abbracciamo la visione animistica dello sciamano, dobbiamo entrare in connessione con tutto ciò che ci sta attorno e quando entriamo in relazione con quest'anima riusciamo ad arricchire di significato la nostra esistenza. Quello che spesso facciamo come errore, come esseri umani, è quello di sentirci separati, isolati da quello che è il grande cerchio della vita, mentre le spiritualità native, le culture sciamaniche, nella loro visione animistica, aiutano l'essere umano a reintegrarsi nell'esistenza, nel cosmo, gli permettono di essere di nuovo a contatto con questo flusso di vita che per me è in ogni cosa, un po' come l'acqua che scorre e che fluisce e che non può restare tra le mani, qualcosa che non puoi trattenere, la capacità di fluire, di stare nel flusso, di essere un canale per l'esistenza, un po' come lo sciamano è un canale per i poteri degli spiriti. Possiamo entrare in relazione anche con una pianta, con un ruscello, con il mare, con monti, con tutta la natura che ci circonda, con il firmamento e grazie a questa connessione entriamo in sintonia anche con chi siamo. Non siamo più isolati, non siamo più degli esseri umani che vivono lontano da tutta quella che è la natura che ci circonda, da quello che è il mondo, ma facciamo parte di esso e co-creiamo insieme ad esso, in qualche modo ci riassumiamo alla responsabilità di chi siamo, di quella che è l'umanità e di come possiamo contribuire a realizzare un mondo nuovo. Un mondo che sia più in armonia con tutti gli elementi e gli aspetti della natura, onorando la terra e la vita. Il tocco dello sciamano è un tocco mistico, profondo, è un tocco che unisce l'invisibile e il manifesto, è un tocco che è in grado di ridare un senso e riportare anima alla nostra esistenza. Il tocco dello sciamano permette di creare di nuovo armonia, di guarire anche le relazioni che non necessitano e di ritrovare il proprio sentiero. È un viaggio di esplorazione alla ricerca della propria bellezza interiore, dell'amore infinito che esiste nel nostro cosmo interiore, affinché attraverso il nostro tocco possiamo manifestarlo nella vita di tutti i giorni. Quindi vi auguro che le pagine di questo libro possano accompagnarvi in uno splendido viaggio alla ricerca di voi stessi e della bellezza in città e in tutto ciò che vi circonda. Grazie a tutti.